Salve a tutti e bentornati alla nuova puntata di Machetti Cucino. Oggi prepareremo una nuova ricetta, vongole mollicate di zia Isa. Gli ingredienti per questa ricetta sono 1 kg di vongole, aglio e prezzemolo, olio extravergine d'oliva, 120 g di pane grattugiato e 80 g di parmigiano. Per prima cosa mettiamo ad aprire le vongole senza niente, senza aggiunta di acqua o prezzemolo, aglio, niente. Intanto che si aprono le vongole, mischiamo il pane grattugiato con il formaggio e il prezzemolo. Uniamo il tutto. Ora andiamo a soffriggere l'olio con l'aglio. Come vedete le vongole si sono aperte. Ora andiamo a soffriggere l'olio con l'aglio. Allora aggiungiamo l'olio abbondante, facciamo soffriggere un pochino e aggiungiamo l'aglio. Come vedete l'olio sta soffriggendo e ora andiamo ad aggiungere il preparato con parmigiano, pane grattugiato e prezzemolo. Amalgamiamo il tutto. Per farlo amalgamare meglio aggiungiamo uno o due cucchiai di acqua delle vongole. Facciamo rosolare bene il pane. Ora aggiungiamo le vongole scolate dall'acqua e amalgamiamo un po' alla volta. In modo che le vongole si riempiano di pane. Finiamo di aggiungere le vongole e continuiamo a mischiare con il pane e il formaggio. Quando vediamo che il pane si è distribuito bene su tutte le vongole, allora possiamo spegnere il fuoco e impiattare. Ora andiamo ad impiattare. Ed ecco pronte le vongole mollicate. Buon appetito e alla prossima puntata! Buon appetito!